Torna in campo il Comitato Terreioni che è il territorio del Metapontino piegato da alluvioni e nubi fragili non ha ancora ricevuto i giusti risarcimento. Questa mattina una conferenza stampa a Matera, la seguita per noi Luigi Di Lauro. Dopo mesi di attesa, spesso vanificati dall'inconsistenza dell'azione amministrativa, si va verso la definizione dell'avvertenza che riguarda le popolazioni alluvionate del Metapontino, colpite tre volte negli ultimi tre anni da fenomeni che hanno letteralmente messo in ginocchio un territorio già ferito a morte. Il Comitato Terreioniche e Altra Agricoltura hanno definito una piattaforma di discussione che dovrebbe in tempi relativamente brevi portare all'avvio di un percorso condiviso. Sì, abbiamo presentato nelle settimane scorse, come annunciato, un documento alla Regione con delle proposte precise, un accordo sui risarcimenti, perché non c'è giustizia senza che la gente venga risarcita. Servono 27 milioni di euro su 40 milioni di danni, di euro di danni accertati per i privati, metà a carico della Regione e metà da parte del Governo. Serve una cabina di regia di coordinamento delle attività perché basta inseguire gli uffici e le competenze frammentate. serve un'azione seria sul territorio. Proponiamo la convocazione, abbiamo indicato anche un percorso concreto, degli Stati Generali per la messa in sicurezza dei fiumi in autunno. Ma la Regione ci sta? La Regione ha dato segnali non solo di interesse ma di disponibilità anche di accordo. Attendiamo che questo si trasformi in atti concreti. Ma intanto domani sarete a potenza per la manifestazione sul petrolio. Sì, saremo a potenza insieme a tanti altri perché c'è un tempo per dire giù le mani dalle risorse di questa terra. La nostra parola d'ordine è molto chiara. Il petrolio è di tutti. Noi chiediamo che si decida a favore della difesa della terra, del lavoro e soprattutto della salute. Che si costituisca un grande fondo per la messa in sicurezza del territorio, la bonifica delle aree inquinate e il soccorso alle persone in difficoltà nell'abbattimento della bolletta energetica.